ciao a tutti oggi siamo qui con un nuovo snack dall'australia si tratta del cherry ripe ovvero uno snack a base di ciliegie mature cocco e il tutto ricoperto da cioccolato fondente ovviamente il packaging richiama molto il colore rosso della ciliegie che dovrebbe essere l'ingrediente principale ma andando a vedere la lista degli ingredienti andremo a notare che il contenuto di ciliegie è soltanto il 15 per cento mentre il contenuto di cioccolato e cocco è il 22 per cento per ognuno di questi due ingredienti ecco il nostro snack scartato ovviamente come potete vedere è ricoperto di cioccolato fondente e all'interno ovviamente ci saranno le ciliegie e il cocco assaggiamo è un po' una delusione questo questo snack perché in realtà sa tantissimo di cocco e molto poco di ciliegia ora vi farò anche vedere l'interno questo qui ecco vedete l'interno qui c'è una ciliegia un pezzo di ciliegia e tutto il resto è praticamente cocco immerso in quello che penso sia uno sciroppo alla ciliegia che però non ha molto sapore il tutto ovviamente è ricoperto dal cioccolato fondente ci vediamo al prossimo video vi lascio in descrizione i link per seguirmi sui social in particolare vi ricordo facebook e instagram che sono i due che uso di più e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao